Pronti i sostegni alle imprese danneggiate dall'emergenza coronavirus. Come anticipato ieri, al termine del tavolo dell'economia riunito in Camera di Commercio a cui hanno partecipato tutte le associazioni economiche e sindacali, il Comune di Ravenna è pronto a varare una serie di provvedimenti per aiutare economicamente tutte quelle realtà penalizzate dalle disposizioni di sicurezza attivate per contenere il contagio da coronavirus. Il Sindaco Michele De Pascale ha confermato quindi in Consiglio Comunale la volontà di spostare, a dopo la stagione estiva, il pagamento di tributi locali come IMU e Tari. Per quel che riguarda l'IMU, il Sindaco ha rivolto un appello ai proprietari di immobili utilizzati in affitto da impresa affinché, come gesto di solidarietà e coerentemente le proprie possibilità, concedano proroghe almeno di pari importo ai loro affittuari. Sulla Tari, invece, la proposta di attivare esenzioni dipenderà dall'attivazione di fondi speciali da parte di Regione e Governo per evitare che siano gli altri utenti a pagare la parte di tassa non riscossa da alcune realtà. Per la tassa di occupazione del suolo pubblico e per la tassa sulle pubblicità permanenti, scadute il 31 gennaio, si sta valutando la possibilità di posticipare il termine ordinario di pagamento almeno a dopo la stagione estiva. Giovedì si terrà un incontro con gli istituti di credito in Camera di Commercio per attivare nuove misure a sostegno dei rispettivi clienti. Il gruppo Cassa di Risparmio ha già preso provvedimenti in questo senso e l'ABI ha già comunicato che estenderà all'attuale situazione determinata da coronavirus le misure emergenziali come il blocco dei mutui previste per gli eventi naturali. Laddove ci siano dei piani di ratizzazione approvati con ravele entrate, l'obiettivo è di congelare i procedimenti. Il Comune ha già chiarito che non vorrà far pagare alle famiglie le rette delle settimane non godute negli asili. Tuttavia bisognerà creare un provvedimento che non crei disparità con chi ha il figlio in un asilo privato e anche in questo senso quindi sarà probabilmente necessario l'attivazione di un fondo speciale. Stessa cosa per la tutela dei lavoratori dove si cercherà di attivare tutti gli strumenti in deroga possibili.